diversamente è andata un'altra persona per chi di voi è diciamo meno giovane questo è stato uno dei più grandi cestisti dell'nba si chiama karim abdul jabbar suo nome era al sindor ed era diventato famoso per questo sky hook shot gancio cielo fondamentalmente cioè lui alto 2 metri 18 grande fisico riusciva a fare questo movimento che alzava ancora di più la palla diventava non stoppabile quando la palla era in fase discendente non si poteva stoppare quindi ha fatto il maggior numero di canestri nell'nba nel 2009 fa un esame emocromo citometrico che dimostra la leucocitosi come si usa per le persone che sono interesse pubblico lui dichiara la cosa dice che ha una leucemia mieloide cronica che consiste in una anomalia dei globuli bianchi e tuttavia in questa dichiarazione dice chiaramente che la leucemia con cui deve confrontarsi è curabile e che i suoi medici gli hanno detto che se fa quello che loro prescrivono lui potrà fare una vita normale senza cambiare sostanzialmente lo stile di vita e questo è vero perché lui ha potuto usare non l'idrossiurea ma un farmaco che si chiama imatinib il nome commerciale glivec quello che Novartis ha dato al farmaco Novartis è la ditta farmaceutica che ha sviluppato il farmaco e questo farmaco consente effettivamente di trasformare la leucemia mieloide cronica in una malattia cronica realmente con la quale si può convivere per tutta la vita nel farvi capire come questo è stato possibile nell'arco di 40 anni dicendo subito che invece quello che noi ci proponiamo attualmente è di arrivare per altre malattie allo stesso risultato nel giro di quattro anni voglio sottolineare una cosa che tutto questo è possibile la medicina di precisione è possibile perché c'è uno sforzo congiunto della ricerca di base che clinici io sono un clinico tendono a trascurare ma che è di fondamentale importanza la ricerca traslazionale quella che sta a metà strada tra la ricerca di base e la clinica e ovviamente la clinica con i tre clinici in 40 anni iniziando nel 1960 il dottor peter nowell di philadelphia da cui il nome cromosoma philadelphia semplicemente notato che questi pazienti avevano un cromosoma 22 più piccolo dell'altro ma è stato anche veramente visionario perché è stato il primo a introdurre il concetto di mutazione somatica in quanto lui notava che nel midollo di questi pazienti c'erano alcune cellule che avevano cromosoma 22 più piccolo ma altre no quindi ha detto non è un'anomalia congenita è un'anomalia acquisita qualche anno più tardi gene trolei in realtà ha detto il cromosoma 22 più piccolo deriva da una traslocazione cromosomica uno scambio di materiale tra il cromosoma 9 e il cromosoma 22 e negli anni 80 diversi biologi molecolari quindi siamo sempre nella ricerca di base hanno stabilito che la traslocazione 9 22 fondeva due geni uno che si trova sul cromosoma 9 abelson e l'altro sul cromosoma 22 bcr dando un gene di fusione bcr abelson la proteina di questo gene di fusione è quella che conferisce alle cellule il vantaggio clonale e che le fa espandere fino a che tutto il midollo è occupato dalle cellule mutate